Terra amara anticipazioni. Adnan torna a casa. Zuleyya riabbraccia suo figlio in lacrime. Momenti drammatici e disperati stanno vivendo la famiglia Yaman. La scomparsa di Adnan ha sconvolto tutta la comunità di Kukurova. Il piccolo in un attimo è scomparso alla vista di tutti quelli che si trovavano nella villa. Ciò ha riempito di disperazione in primis Zuleyya e Unkar, e poi lo stesso Demir, che è ancora turbato da quello che è successo al figlio. Come già anticipato nei video precedente, sarà proprio Yilmaz a trovare Adnan, seguendo il consiglio della sua amica Nazire. Dopo un giorno di disperazione, nella puntata di domani, ritroveranno finalmente il bambino e lo riportano dalla sua famiglia. Yilmaz, dopo il primo contatto fisico con il figlio, decide di lasciarlo nella sua carrozzina su una stradina vicina alla villa, in modo che, dopo aver sparato in aria, possono trovare il luogo. Infatti, dopo l'avvertimento di Akaya, Demir, Unkar e il bracciante in apprensione vanno a cercarlo. Quando arrivano su posto, si avvicinano lentamente al passeggino temendo il peggio, ma per fortuna il bambino. È sano e salvo che sollievo. Domani, quando Zuleya si riunisce con il suo bambino, sarà un momento molto emozionante, poiché nemmeno la perfida Saniyer riuscirà a trattenere le lacrime. Zuleya scogli suo figlio e si rende conto che il bambino sta bene, tuttavia chiede a Demir chi l'ha rapito. Inoltre, le dice che sta sempre chiusa a chiave in casa ed elenca i suoi dubbi. L'uomo cerca di tranquillizzarla. Dopo la conversazione con la moglie insieme all'amico, va a fare visita alla coppia che aveva suo figlio. E le chiede informazioni su Yilmaz, poiché è convinto che il rivale è coinvolto con la scomparsa di Adnan. Nel frattempo, Yilmaz racconta a Fekele l'emozione che ha provato per quel bambino, aggiungendo che Nazire, sapeva dove fosse, tuttavia ha preferito non raccontare niente, poiché conoscendo Demir, aveva paura che uccidesse quella donna, visto che il rivale è diventato un uomo senza cuore. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale.